A Fano, Ferdi è tornato, Francesca ha scoperto un'altra città dove è molto amata e sono stati con noi e saranno ancora con noi domani, un grande applauso veramente dite voi grazie a tutti per la vostra presenza di questa sera, siamo stati davvero bene, scusate il ritardo salutiamo il nostro forum che ci ha riempito di regali, sembrava Natale oggi e buon proseguimento di serata, ciao a tutti grazie a Ferdi, la parola a Francesca io non ho più parole, sto parlando da oggi per due quindi, no, sono stata onigata di venire qua sono lusingata che in un'altra città mi vedono così bene, nonostante non sia Napoli e spero di ritornarci a avere lo stesso affetto noi ti aspettiamo e adesso che ti abbiamo conosciuto ti vorremmo ancora più bene grazie va bene, facciamo un bel applauso per salutare i ragazzi grazie a tutte le persone per aver interagito con loro e con noi anche nel corso di questa serata domani ai Bagnicarlo saranno di nuovo insieme, insieme a noi quindi giochi, divertimento, sport all'insegna della solidarietà grazie ragazzi, veramente grazie carini e gentili Ferdi mi ricordo quando ti sei messo in ginocchio e hai fatto quando avevi vinto e non ci credevi io solo quello ho visto, vabbè però mi è bastato mi è bastato per capire che eri una persona simpatica ciao Francesca, grazie ciao allora Maria Elena